ragazzi spero che questa serie continuerà a lungo lo so che non la faccio da tanto però voglio continuare arriviamo a 5 like se vogliamo che continuiamo la serie e ragazzi vi lascio il video ragazzi come sempre eccoci qui oddio su pokemon di real life un secondo che ora prepari pokemon ok ragazzi ci sono il nostro teddy bear ex col capello di babbo natale teddy bear il nostro gatto che sta dormendo e il leggendario alex e poi abbiamo interessate dentro le pokeball ovviamente allora vediamo oggi con chi dobbiamo combattere abbiamo già conquistato tre medaglie direi di voler fare una battaglia contro boh cerchiamo vabbè proviamo con un supereroe allora chi hai tu o soltanto no sto scherzando avrò tipo sei pokemon andiamogli a vedere ragazzi ho chiamato il professor rock che mi ha dato esattamente il poke dex e ora andiamo a vedere subito pikachu ok attivato ragazzi è un po' il suo caso però si vede pikachu si vede e ora combattiamo ragazzi sembra di avere solo due coccodrilli ora avete visto lo sbalzo di luce perché ho riacceso la luce e andiamo a vedere meglio i nostri avversari allora una luce un'iguana gigante e un coccodrillo con uno scotch in faccia vabbè noi ci mettiamo in campo buttiamo pikachu che è l'unico pokemon ubriaco ok ragazzi buttiamo pikachu che è abbastanza ubriaco infatti io l'ho detto ragazzi attenzione è una lotta in doppio allora chi buttiamo il maiale o teddy bear rex la teddy bear rex un orso stizio sterla è un topo che sorride la squadra perfetta dai tizio usa pistola nerf gli ho mancati dai usa fucile nerf ragazzi una mitraglia li abbiamo beccati dai ricarichiamo ragazzi teddy bear si deve ricaricare cavolo dai pikachu ubriaco fai una mossa fulmine ti prova almeno vabbè proviamoci usa fulmine pita due coccodrilli all'incontrario verta uno è sopravvissuto lui è sopravvissuto no sei morto sei vivo sicuramente non si capisce mi sembra morto vedete non c'è niente tocco pure no è morto vabbè ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto lasciate like se volete continuo la serie endergamer un saluto da energamer ci vediamo in un prossimo video bella raga non ci vediamo in un prossimo video